Un decreto che usa la scusa della Catalogna per applicare a tutta la Spagna la possibilità da parte dello Stato di interrompere internet senza l'intervento di un giudice e direttamente per ordine del governo. Questa è l'app dal tsunami democratico, prima per collegarti hai bisogno di un codice QR, io per esempio il mio l'ho ottenuto andando in una manifestazione, lì l'ho scannerizzato e una volta ce l'hai puoi accedere nella tua area e c'è anche una parte dove mostra i messaggi di coordinazione. L'app c'è anche un menu dove puoi dire la tua disponibilità a livello orario, la tua disponibilità di giorni. Il campo di battaglia dell'internet è ora molto presente in tutte le proteste sia da una parte che dall'altra, cioè sia l'uso dell'internet per la protesta e per le soluzioni e per la diffusione di informazioni che se no sarebbe censurata sulla repressione, sia per parte degli Stati come per eliminare e per riappropriarsi di questo spazio che è stato uno spazio di libertà, è un decreto legge degno realmente di regimi autoritari. Il primo argomento di giustificazione è proteggere i cittadini dalla disinformazione, cioè in realtà è una legge appunto che protegge il potere dai cittadini, togliendogli la possibilità se lo decidono di usare l'internet. Poi aggiunge un elemento, tutto un capitolo sui dati personali, trasportare i dati da un'amministrazione all'altra senza chiedere permesso. Si omette completamente, mentre è obbligatorio per il regolamento europeo, il dovere di informare i cittadini di questo trasporto. Se lottiamo per la libertà di espressione fuori dall'internet e non ci occupiamo di difenderla anche in internet, la stiamo perdendo sia da una parte che dall'altra. Dobbiamo impedire che ci sia uno stato di eccezione, un'eccezionalità dei diritti in internet che è la tendenza di molti legislatori.